E tant'è che Aruba è la mia importanza di essere un compromesso con il Banco Mondiale, escutivo nella identità di Acquita, chiede che lo possiede qualcosa di Aruba. Il Ministro ha firmato che il Vice-Presidente del Banco Mondiale per l'Occita di Latinoamérica e del Caribe, il signor Jorge Familiar, chiede che è un passo importante per fortificare la relazione entre Aruba e World Bank. Questo è un primo passo molto importante in sostenere la relazione entre Aruba e Aruba. Abbiamo diversi elementi, potenziali elementi di collaborazione, dove lavoriamo con Aruba per fortificare il suo progetto per sviluppo. E questo è molto positivo, perché ci ci permettono di condividere ciò che abbiamo studiato in altri paesi di regione e del mondo, e anche di esperienza di Aruba e di condividere con altri paesi, particolare in la regione Caribe. Il importante per Aruba è che Aruba ottenere la relazione per la relazione del Banco Mondiale per l'Occita per l'Occita, come potenza di strassi, come potenza di monitorizzazione, come potenza di quarters, come potenza di investimenti, come potenza di dell'Occita per l'Occita, come potenza di mani, come potenza di riflessioni ed che dovrebbero gli partner. Anche il potenza di valut per l'Occita della relazione del Banco Mondiale per l'Occita al One would be a potential public expenditure review, which could help set the foundations for future sustainable growth. Then there are other areas of interest, like for example renewable energy in particular, where Aruba has progressed a lot in terms of diversifying its energy matrix and has very ambitious goals towards the future. The blue economy as well, the role of oceans, of making sure that the available resources are well maintained and used sustainably for growth. And areas related to other potential diversification of the economy to bring growth. Yes, the interesting thing about the Königreich of the Netherlands is that we are Netherlands, but we also have an important Caribbean component. And that way we can provide a bridge between the one hand of the European parties, shareholders, consumers and investors, who are interested to make further a sprung to the Netherlands and Caribbean part of the world. Yeah, anyone who wants to arrive at home to mainstream or president of Spain into the Thank you very much. Thank you very much. It's been very good. Wonderful, you are 139лав.